Praticamente abbiamo questo problema qui a scuola con il cancello chiuso, che la preside non vuole lasciare il cancello aperto, che c'è una disposizione dai vigili, ugualmente dice che il cancello deve rimanere 24 ore su 24 aperte perché non è agibile. E praticamente io ho un bambino che ha problemi, ultimamente sta male, ha avuto delle crisi, e gli ho chiesto se gentilmente me lo lascia aperto perché la mattina c'è un casino qua per entrare e per uscire. Qua noi abbiamo dei bambini anche disabili, ce n'è uno in particolare, che è la preside, ha disposto che la mamma può salire con la macchina, lasciare il bambino all'entrata, uscire con la macchina, paccheggiarla fuori e la mamma rientrare di nuovo. E se il bambino che soffre di crisi, mentre che la mamma scende a posare la macchina fuori, gli viene qualche crisi? Come la mettiamo? Con le macchine tutte di forza. Con le macchine, lei ben vede, tutte le macchine paccheggiate qua. Grazie a tutti.